Sì, siamo stati in partita per tutto il tempo, poi è mancata quel pizzico di esperienza visto l'età della nostra squadra, ma ce l'abbiamo messa tutta, l'abbiamo fatto sudare questo fortissimo Fasano e siamo contenti così e adesso andiamo avanti. Sì, obiettivo quinto posto, domani c'è da dare il massimo, ci proveremo e proveremo a portare a terreno questo quinto posto. Diciamo che queste partite quando sei tra virgolette lo sfavorito, perché penso che loro erano sfavoriti prima della gara, si va sempre in campo e non c'è mai niente da perdere, quindi loro hanno dato tutto il possibile e hanno fatto bene, noi invece eravamo i favoriti e invece di ammazzare la partita da subito siamo stati stupidi che li abbiamo fatti entrare in partita e loro ovviamente ci hanno freduto poi meno male che alla fine un po' di esperienza, un po' di fortuna e anche un po' di bravura ci sono serviti a portare a casa il risultato. Sì, no, io voglio uscire dal campo sapendo che tutti abbiamo dato il massimo e dopo si può anche perdere stasera secondo me non l'abbiamo fatto questo, solo per quello mi sono arrabbiato io voglio andare a casa e aver dato il massimo, tutto qua.